Adesso faccio la prova del controluce per far vedere che la pala non ha punti deboli e non passa la luce. Questa è una lampada che io adesso utilizzo, mettendola in controluce, attaccata, praticamente non filtra assolutamente luce, quindi la trama è perfetta e la pala è compatta. Grazie. 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 Grazie.